Che Padova non sia mai stata una piazza troppo tranquilla dal punto di vista delle passioni politiche lo si sapeva già, ma quando le divergenze travalicano in aggressioni verbali e sputi, come è accaduto al banchetto di raccolta firme organizzato dalla Lega, l'opinione pubblica si interroga sul clima politico in città. La Lega intanto fa quadrato e chiede che la politica condanni atteggiamenti civili. Io sono di Padova, faccio politica per la Lega da tantissimi anni a Padova e di aggressioni attacchi ne ho avute negli anni tantissime. Ritengo però che siamo arrivati a una situazione limite, ovvero sentirsi nel giusto di poter additare alla Lega offese di questo tipo dall'antisemitismo al fascismo, al nazismo e ora anche di dire basta. E ora soprattutto che alcune parti politiche che non sono dalla parte nostra ma magari sono dall'altra parte della barricata abbiano mente ferma e parola ferma nel dire a questo tipo di persone che dall'aggressione verbale poi si potrebbe passare ad aggressione fisica. Questo tipo di reazioni siano sicuramente una conseguenza di quel clima d'odio che si è ormai radicato negli ultimi tempi nei confronti della Lega e dei leghisti che vengono un po' marchiati ed etichettati con delle espressioni che assolutamente non hanno nulla a che fare con invece la nostra attività e la nostra militanza. Io ero al banchetto dieci minuti prima quindi non ci siamo incrociati per poco con questa signorina, cioè di un'aggressione, un'aggressività che non è nuova però a Padova, perché se ci ricordiamo gli attacchi ai banchetti della Lega che ho subito anch'io più volte, le minacce, quindi insomma non è una novità per i nostri militanti e i sostenitori della Lega. Ci vorrebbe maggior controllo in fronte di questa gente che certamente non è un'espressione di democrazia perché se dicono di essere così democratici dovrebbero lasciare gli altri movimenti o partiti politici, anche se non si pensa allo stesso modo, di manifestare in maniera democratica. E' stato molto orgoglioso che i nostri militanti e sostenitori, lo stesso Boron, non ha assolutamente reagito. Sfido qualsiasi persona a non reagire a delle provocazioni, degli sputi in faccia di questo tipo.